Ciao guerrieri di luce, io sono Giosuè Stavros e sono davvero molto felice di annunciarvi che mercoledì 7 ottobre alle 20 e 30 sarò ospite del Giardino dei Libri per un webinar interamente dedicato allo sciamanesimo. Chi mi segue già sa che mi occupo nello specifico di sciamanesimo transculturale e di crescita personale. Ho scritto tre libri sullo sciamanesimo e ho condotto più di 50 corsi di formazione. In questo webinar parlerò di guarigione sciamanica e spiegherò nel dettaglio le più diffuse tecniche di guarigione spirituale presenti nella maggior parte delle culture sciamaniche. Vi parlerò anche della visione sciamanica della malattia e dei passi necessari da fare per ritrovare il benessere e l'equilibrio. Questo webinar è rivolto a tutti coloro che desiderano sapere qualcosa di più sullo sciamanesimo ma anche a chi vuole conoscere le basi per effettuare un viaggio sciamanico e poter entrare in contatto con il mondo dello spirito. In questo incontro parlerò anche del fenomeno della perdita dell'anima che secondo molte culture sciamaniche è la causa primaria di uno stato di malessere psicofisico. Se volete saperne di più vi aspetto mercoledì 7 ottobre alle 20 e 30 per questo webinar in diretta con il giardino dei libri.